90 persone, di cui 20 minori, negli ultimi 4 anni hanno tenuto una casa in provincia di Ravenna grazie al progetto Housing First, portato avanti dal Consorzio Solco insieme al Comune di Ravenna, all'Unione della Romagna-Faentina e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La metodologia, che fa leva sull'autonomia abitativa e non sull'assistenzialismo, vede il territorio ravennate, pioniere e regione. Prossimamente i risultati del progetto verranno diffusi durante un evento pubblico nel quale verrà proiettato il docufilm The Passengers del regista ed educatore Tommaso Valente. Questa sperimentazione è diventata progetto ormai da un paio d'anni e ha come risultato più importante il fatto che 90 persone dal 2016 al 2019 hanno avuto una casa, l'hanno avuta in condivisione, hanno avuto la possibilità di contribuire ai costi e quindi passare da percorsi di assistenzialismo a un percorso di autonomia piena in cui prendersi cura della loro casa di ritorno da situazioni di abitare molto precario o addirittura di strada. In questo progetto è possibile riscattare l'affitto e quest'anno nel 2020 tre appartamenti dei 19 attualmente in carico al progetto andranno appunto a riscatto dell'affitto. Quindi le persone saluteranno gli operatori dell'equipe educativa e si prenderanno il contratto d'affitto degli appartamenti completamente sotto la piena responsabilità dei partecipanti. Non avrei avuto vita se non avessi avuto una casa perché l'età e tanti anni a dormire in colonie abbandonate, essere sbattuti fuori ogni tot mesi dai carabinieri, da una colonia all'altra, passare l'inverno così, cioè, boh, non ce la facevo più.